se anche tu vuoi acquistare crediti passa da gofifacoins.com in più utilizza il codice malati15 tutto in maiuscolo per ottenere uno sconto del 5% link in descrizione ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di noi malati di futtio sono fifa orso e oggi sono qui per portarvi la player review della versione in form di roman bues giocatore che gioca in svizzera nel tun in questa sua versione presenta un 70 di overall con 83 di velocità 68 di dribbling 70 di tiro 50 di difesa 67 di passaggio e 68 di fisico work rate medio medio 2 stelle di mossabilità 4 stelle di piede debole è un giocatore che per quanto riguarda il prezzo è molto abbordabile infatti ho pagato circa 8000 crediti o se non sbaglio addirittura 8000 precisi per quanto riguarda le sue caratteristiche andremo adesso ad analizzarle ma secondo me gli 8000 crediti spesi li vale tutti quanti allora per quanto riguarda il primo pro lo potete notare subito anche senza provare il giocatore infatti è il suo 83 di velocità diviso in 81 di accelerazione 84 di velocità scatto per quanto riguarda la velocità non si fa mancare nulla rispetto a un giocatore a un top player diciamo perché la sua velocità è precisamente quella che vedete in carta è rispecchiata precisamente in game il suo secondo pro nonostante all'inizio non mi era sembrato neanche provandolo un pro è il 70 di tiro infatti apparentemente è un valore non basso ma magari basso barra medio invece poi provando durante le partite il giocatore mi sono accorto che quei pochi palloni che riesce a controllare che gli arrivano riesce sempre a finalizzarli molto bene il suo 70 di tiro è diviso in 79 di posizionamento 67 di finalizzazione 78 di potenza tiro 70 di long shot 53 di tiri al volo e 63 di rigori tralasciando gli ultimi due valori che vi ho elencato che magari sono quelli un po' più bassi per il resto va molto molto bene di certo magari non provate con lui tiri spettacolari a giro da 40 metri ma per il resto riesce sempre a cavarsela anche il 67 di finalizzazione secondo me è anche un 70 o qualcosina insomma di più in gioco passiamo adesso al suo terzo pro e quarto pro che sono l'equilibrio ragazzi equilibrio e forza equilibrio di 73 e forza ragazzi di 70 del suo dribbling ragazzi infatti visto che il dribbling è un contro si salva solo l'equilibrio e poi per il resto invece la forza è un pro a parte allora ha un ottimo equilibrio lo notate proprio mentre si ha lo scontro fisico con un difensore non va mai non si smuove un giocatore che non lo perde proprio l'equilibrio non che non va a terra non si sposta proprio ragazzi lui rimane sempre fermo e questo lo aiuta anche talvolta a mantenere il controllo della palla questo unito anche alla sua forza nonostante un 70 di valore in carta secondo me si sente ed è qualcosina in più ed è proprio unita amalgamata molto molto bene insieme al suo equilibrio ultimo pro del giocatore è il work rate medio medio perché è una cosa che in questo giocatore è azzeccata perché lo troviamo quindi sempre fuori dall'aria però con la sua velocità è bravo quindi a farsi vedere quindi si va a prendere il pallone e poi grazie anche alla sua velocità può penetrare nell'aria passiamo adesso però ai suoi contro perché questo giocatore ha anche diciamo dei contro che sono pochi ma sono notevoli il suo contro principale è il dribbling unito alle due stelle di mosse abilità quindi due contro molto molto rilevanti il dribbling è un 68 diviso in 75 di agilità 73 di equilibrio che però come abbiamo detto si esclude dal dribbling in quanto è un pro 72 di riflessi 70 di controllo palle 63 di dribbling puro poi ha le due stelle di mosse abilità e questo è un peccato perché appunto ha un'ottima velocità ma senza un grandissimo dribbling potete solo appunto come ho detto provare a penetrare in aria magari come finta usare solo la finta classica quindi peccato davvero per il dribbling perché lo penalizza tantissimo il voto finale che io do a Bue se è un 8 o meno ragazzi è un giocatore che vale i crediti spesi fa il suo lavoro non è un top player di alta gamma che risolve tutte quante le partite che gioca in maniera proprio eccellente tutta la partita però vale i crediti spesi insomma ragazzi anche un 70 di overall non ci si può aspettare chissà cosa detto questo la review finisce qui io vi invito a lasciare un like e un commento iscrivervi al mio canale che trovate qui sotto in descrizione e iscrivervi al canale di noi malati di foot ciao ragazzi